Allora amici, l'era un po' che facevi il video, allora ho deciso che l'era arriva il momento e in verità domenica di cose importanti di dire, però ho fatto la piacere, che intenzione qualche robaetta, in sci, per fare. E adesso andrei andare in biblioteca al Palazzo Sormani per studiare un po' e in sci, per staccare un po' il fresco, perchè in cuore si crepa di caldo, si scioppa di caldo, come si dice. In tanto, in biblioteca, c'è il condizionatore, c'è il ventilatore, e dunque si stacca un po' meglio. Fa in sci caldo che mi sceglie anche i suracili, mi gustano i suracili, e le minghe tanto belle. Per fortuna in cui le minghe in sci caldo con bandiere del di prima, del di prima mò, in cui fa un po' meno caldo e poi il parco domenica il piove, se no si spera che il piove o che il piove no, perchè magari avremo già un sguassum e dunque l'è sempre un problema anche quel, però l'è anche vera che il piove, e vorrei dire che l'aria si assura un po', e dunque vediamo cosa succederà domani. Va bene, sono quasi arrivato, adesso smorso il cedulare e voglio studiare, ugualmente, che provi. Ciao! Ciao!